E facoltà di filosofia ragazzi è vero che trovi comunque secondo gli stereotipi quelle che il sesso secondo me è solo induzione dell'uomo a voler dire che la famiglia nel percorso psicosomatico fisico dell'essere umano nel corso dei cicli sunari lunari è stato molto difficile per me da comprendere quella calda notte di estate. Perché come diceva il bicchiere di caffè non si può essere mezzi pieni se si è se si vuole del fare del sesso e te lì che va bene ma tromba no si basta sapere quello e Max Power esatto esatto Max Power è un po' stereotipato lo so sta scherzando ovviamente sto scherzando però era era bello. E' stato divertente l'università è stata divertente dai non posso non posso dire di no per quanto è durata per quanto non frequentassi però è stato è stato ganso. Tegamino ma è un clickbait! Oh? 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 Ma che tier list di merda è? Poche live di merda mamma mia hovi svegliati!